Non siamo certo dei campioni di lettura noi italiani, le statistiche sono impietose. Il 60% degli italiani non legge nemmeno un libro all'anno e quelli che ne leggono almeno uno sono in calo del 6,6% rispetto al 2014. No. Ne libri, ne riviste? Eh, poco. Poco? Neanche sotto l'ombrellù? No, no, pochissimo, guardi. Tempo di vacanze, tempo di letture, però l'estate è il periodo dell'anno in cui dedichiamo più tempo a noi stessi e quindi perché non leggere un libro che non abbiamo ancora avuto il coraggio di iniziare o visto che siamo in partenza per una meta turistica, perché non mettere in valigia quel romanzo o quel saggio che ci aspetta lì da tanto tempo? Che libri predilige? D'azione o sono i classici? Durante l'estate legge di più o l'estate... Meno, meno. Meno? Si dedica più ad altre cose. Sì, sì. D'estate lei legge di più o di meno? Leggo di più, leggo sicuramente di più. Sotto l'ombrellone o in relax a casa? In relax a casa. Sì. Che libri predilige in questo periodo? Eh, le graphic novel. Le graphic novel, i fumetti diciamo romanzati, così mi piacciono molto. Quindi una lettura di distrazione? Sì, 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 per passare il tempo diciamo così in relax. Invece d'inverno magari letture un po' più impegnative? Sì, l'inverno sicuramente più saggi. Qual è l'ultimo che ha letto? Eh, Luciano Gallino, l'Italia post-industriale. In estate aumentano anche le uscite editoriali, le case editrici fanno a gara a chi si aggiudica il best seller dell'estate. Ma come orientarsi in questa Babilonia di pubblicazioni? Un aiuto ci può arrivare dal nostro libraio di fiducia. Siamo in tempi di viralità, voglio dire. La parola utilizzata nell'odierno è internet, ho visto internet, ho visto internet. In buona sostanza la metafora è quella di una barchettina, di una zattera in un mare magnum di pesciolini, di meduse e di tanti, come dire, tanti oggetti che internet offre. Bisogna avere una traccia, bisogna avere un'idea e ancora, secondo me, il libraio resta un punto di riferimento per chi ha voglia di leggere. O anche dall'edicolante sotto casa, che ci può dispensare qualche buon consiglio. Tira sempre sotto l'ombrellone una lettura facile, però i quotidiani reggono uguale? Sì, sì, la gente vuole sapere le notizie di Dufano in generale, ecco. E letture un po' più impegnative, tipo settimanali, periodici, vanno ugualmente anche d'estate? Ma sì, 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 ma comunque molti fanno anche la settimana enigmistica, perché sotto l'ombrellone ci sta, uno prende il mojito, no? Così, anche per, sì, sì, passa il tempo e quindi tra una lettura e l'altra si tiene annelata la mente, ecco. Alla fine, anche se siete in quel 60% di italiani, se proprio decidete di passare dall'altra parte della barricata, comprate un libro cartaceo. L'odore di un buon libro vi scalderà anche l'anima. Signora, mi scusi, lei legge durante l'estate? Sì. Cosa predilige? Libri, romanzetti sotto l'ombrellone. Cose un po' leggere, diciamo. Leggere, leggere, i quotidiani. E i quotidiani. Quando si fa colazione.